Credo che tutti noi abbiamo apprezzato il dono di avere un Papa come Giovanni Paolo II anche infermo. Per diverso tempo è stato un messaggio di fede, un messaggio di vita cristiana nella sofferenza che ha fatto un bene immenso alla Chiesa, evidentemente. Però si trattava di una situazione particolare, di una malattia specifica.